Dove incomincio? Cominciamo a nome e cognome. Sirio Maria Rosa. Perfetto. Allora, cosa ci ha preparato oggi? I tortelli. I tortelli di terzorio? Di terzorio, sì. Le vietole, le erbette. Si tritano sottili più che si può. Prima pulite tutto, eh? Poi si taglia la cipolla, si frulla e poi ci mette olio e si fa passare tutto. Con la cipolla e le erbette. Poi le mette da parte in una ciotola. Prepara il riso cotto nel latte. Metto, una volta cotto, lo metto con le vietole. Ci metto le uova, il formaggio grattugiato, il parmigiano. E la persa, non la persa. La persa è in dialetto, in dialetto ligure. La maggiorana. Si mescola tutto. Quello è ripieno. Devo assaggiarlo, eh? Poi si fa la pasta con la farina, un po' d'olio, il sale e si impasta con l'acqua. Né troppo spessa né troppo sottile, perché se è sottile dopo il ripieno lo indebolisce e si guasta. E poi ci si mette il ripieno, si piega e si frigge. Semplicissimo. Perché io ho imparato qua, perché io sono piemontese, eh? Però ho imparato, ho imparato bene. Sono convinta di aver imparato bene. Perché giù al ristorante erano tutti contenti. Tutto lì, la ricetta è tutta lì. Così. Le assaggiatele, poi vedete un pochino prima di farne degli altri. Se non vanno bene... Ah, secondo me vanno bene. E poi vedete un pochino.